Siamo qui stasera all'evento voluto da EXFINALS e con il nostro supporto i Ferro di San Gregorio, i cangi stellardi e andiamo con noi Stefano Maffei e Toscano e con piacere partire. Grazie di essere venuto. Che pensi che è superata con gli chiave? Oggi poco lavoro, un po' di relax? Finalmente, molto bello, un location veramente interessante, ho fatto dei complimenti, dell'accoglienza, dei cocktail. Hai in mano un cocktail? Questo si chiama me, è una serata, è solamente di forte colori, di forte colori, anche di sapore, strutturato, buono, che cambia il tempo, come deve essere il programma di corte. Facile, ottimo. Allora io vi ringrazio, spero che ti dai. Grazie a tutti.